Benvenuti sul canale Le News Kiwi2, parliamo di Nicolò Scalfi, il campione di caduta libera. Sul web gira la notizia che il campione è stato eliminato, perché le puntate sono registrate. La puntata della sua eliminazione verrà trasmessa agli inizi di luglio. Purtroppo prima o poi si sapeva che sarebbe stato eliminato anche lui e a tal proposito Nicolò in un'intervista ha dichiarato questo. Sì, so che prima o poi verrò sconfitto e quando succederà mi dispiacerà. Caduta libera è un'esperienza bellissima. Molti saranno dispiaciuti per la sua eliminazione, mentre altri gioiranno perché stufi di vederlo ogni sera. Cosa ne pensate? Fatemelo sapere giù nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e di supporto. Noi ci vediamo con le prossime news.